Ho ancora un paio di domande per lei e poi vorrei vedere Uri. 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 Abbassa il volume. Abbassa. Facciamo insieme tantissime cose. Vieni, Uri. Non ci sono lumache sulla strada. Invece sì. Avresti dovuto parlargliene. Non puoi fare finta di niente. Sono posti per chi non ha compagnia, per chi non ha altra scelta. Vivrai lì con altri ragazzi della tua età. Uri qui è felice. Non voglio una nuova casa. Uri. Pronto, Tamara? Che succede? Dove siete? È successa una cosa. Uri... Parò. Non è pronto. Il caso è stato portato in tribunale. Userò qualunque mezzo se necessario. Mi hai capito? Quante notti? Cominciamo con due notti. Dove siete stati, DiBari? Non tornerete, TiVo. Non puoi farmi questo. Mi hai capito? Hai buttato al vento uno stipendio di 90.000 euro al mese. Ma che cosa c'entra? Invece c'entra. Ogni volta che qualcosa non è esattamente come la vuoi, tu decidi di fuggire. Uri è fantastico e lei è un padre devoto. Non è più un bambino ormai. Grazie. Grazie a tutti